Era una cena con delle persone e in casa stavano guardando sto programma. Ho provato a fatica per 20 minuti, te lo giuro dopo 20-25 minuti mi veniva da vomitare. Ho chiesto scusa, mi sono alzato, sono rimasti tutti secchi, ho detto perdonatemi e non vi voglio mancare di rispetto ma questa cosa per me è abominevole e me ne sono andato. Fatto bene, grande Jack. Perché te lo giuro, veramente a livello di immoralità. A voi che guardate queste cose vi do un consiglio, ma veramente fatevi qualche domanda, fatevi vedere da un medico, da uno bravo, da uno psicologo fatevi vedere. Perché voi avete dei problemi, credetemi, la vita è un'altra cosa cazzo. È per questo che ce l'hanno messo in culo in questo paese, ci hanno fatto fare il cazzo che volevano loro facendovi guardare ste merdate.